Ciao ragazzi, come va? Spero bene per tutti. Sono qui nel mio giardino e mi sono preparato un bel panino da mangiare. Intanto volevo dirvi, voi sapete che è uscito il Bivo 2, l'avrete già visto su altri canali e niente, l'ho provato, è buono, molto buono rispetto alla prima versione e adesso mi era venuto in mente, ma è meglio una cosa così o una cosa così? Niente, non sapendo scegliere ho deciso di mangiarne tutte e due insieme. Vediamo come va a finire. Se seguite il canale e guardate il prossimo video sapete cosa è successo. Ciao e grazie a tutti.